non so Luca se vuoi dire tu due parole o Jacopo e poi direi di partire per non parlare troppo lunga perché siamo qui per fare allenamento io semplicemente saluto tutti e ringrazio Fede per l'iniziativa per aver organizzato questo allenamento condiviso qualche ragazzo dell'Under 6 ce l'ho sentito di recente qualcuno non lo vedo da tempo vedo che comunque siete ancora tutti nello schermo non superate le dimensioni dello schermo per cui la situazione fisica non è drammatica saluto tutti quelli che sono in questo momento a Torino o zona vi faccio il bocca al lupo per tutto e spero che voi e le vostre famiglie siano tutti bene un saluto io ovviamente non faccio attività fisica vi guarderò con molta attenzione prendere pallone o pallina quello che avete e cominciamo a riscaldarci un pochino e riprendere la sensibilità con la palla cominciamo a farla passare intorno al corpo questo lavoro cambio senso adesso metto insieme uno sopra e uno sul bacino uno sopra uno sul bacino uno sopra le spalle uno sul bacino cambio senso vai ok unisco i piedi e vado intorno alle ginocchia stesso lavoro cerco di aumentare sempre la velocità più possibile aumento la velocità vai 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 aumentare cambio senso allora raga adesso facciamo un circuito vi servirà la sedia che la useremo per fare dei monosquat ovvero questo questa è la mia sedia monopodal del culibrio monopodalico sul piede destro la gamba sinistra va in avanti le braccia va in avanti scendo la sento ma non mi siedo e salgo ok scendo e salgo la discesa in due secondi quindi uno due subito su in uno due secondi di fase centrica un secondo per salire sono dieci destro dieci sinistro poi il push up il push up lo facciamo togliendo la fase erastica cosa vuol dire sono in posizione di plank scendo giù blocco un secondo e salgo quindi scendo uno due blocco salgo ok quindi questo è il push up poi quello che abbiamo fatto prima nel riscaldamento del lift sempre equilibrio gamba destra giù e il braccio sinistro che va a trottare sopra la sedia e torno su veloce quindi questo è sempre scendo uno due tocco e salgo su veloce in equilibrio ok due salgo tre su quattro su cinque su sei su sette su otto su nove su dieci pennello destra pennello sinistra pennello pennello sinistra riaga abbiamo finito yes double m come capitano di biella ci devi tenere un discorso ringrazio tutti per l'allenamento un'esperienza diversa bello molto bene grazie un momento adesso adesso sentirai il capitano di campo invece che avrà parole di verità vai sergio lo vedo carico no come l'altra volta è stato bello interessante anche perché ogni volta cambiava anche tipo di esercizi allenatori anche che ci danno consigli diversi ci allenano su parti diverse e specifiche è sempre bello e utile anche che Grazie a tutti